Noi stiamo facendo, pur essendo seduti, 20 km. Oppure quanto facciamo? In un'ora facciamo 1180 km. Cioè la città di Brescia, la cattedrale, queste sono le cose eclatanti che la gente sentirà volentieri perché sono sconcertanti veramente. A Brescia, capitale italiana della cultura, la riproduzione di una delle più celebre dimostrazioni scientifiche di tutti i tempi, il pendolo di Foucault che a fine Ottocento confutò per sempre ogni teoria di tipo geocentrico. Sarà il MUMEC il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo con l'Università Cattolica del Sacro Cuore a replicare il famoso esperimento all'interno del Duomo Nuovo di Brescia in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Qui siamo a 65 metri, per cui anche il progetto esecutivo di tutto il pendolo e della sua funzione è stato progettato e calcolato con tante più difficoltà rispetto alle altezze più consone, anche a vederle come occhio umano, perché appena si vede questo attacco in cima, che dal fondo della chiesa sembra un cerchettino, ma di fatto si tratta di un diametro di 5 metri oltre. Esperienza che mostra la rotazione della terra attorno al proprio asse. Il 14 dicembre 2006 fu realizzata all'interno del Duomo di Arezzo, 3.000 persone che affollarono la cattedrale, altrettanti gli studenti presenti il giorno successivo. Un pendolo che a Parigi viene fatto oscillare e sembra ruotare, mentre in realtà è la terra sotto che ruota. Il pendolo rimane fermo e si deduce di dimostrare che è la terra sotto. È la prima vera grande prova della rotazione terrestre. Il pavimento e la cattedrale si spostano, in questo movimento il pendolo è svincolato dalla rotazione terrestre.